probabilmente sai già che l'uva è un frutto con diversi benefici per la salute vero ma quello che molti non sanno è che anche le foglie d'uva possiedono proprietà medicinali questa parte della pianta contiene vitamina a b6 c e k calcio rame ferro folato magnesio manganese riboflavina e fibre ecco alcuni benefici associati alle foglie dell'uva regolano gli zuccheri nel sangue le foglie d'uva contengono composti che possono aiutare a ridurre i livelli di zucchero nel sangue e a migliorare la sensibilità delle cellule all'insulina sono anche una fonte di antiossidanti che proteggono le cellule del corpo dai danni causati dai radicali liberi che sono più abbondanti nelle persone con diabete inoltre aiutano a proteggere i vasi sanguigni dai danni causati dagli alti livelli di zucchero nel sangue in questo modo riducono il rischio di complicazioni legate al diabete prevengono la stitichezza le foglie d'uva contengono composti che aiutano a stimolare il tratto digestivo contribuendo ad alleviare la stitichezza inoltre migliorano il movimento intestinale rendendo più facile il passaggio delle feci attraverso il tratto intestinale le proprietà anti infiammatorie riducono l'infiammazione del tratto intestinale migliorando la digestione e alleviando la stitichezza inoltre rilassano i muscoli intestinali dando sollievo agli spasmi intestinali che possono causare la stitichezza eliminano l'acne le foglie d'uva possiedono proprietà antiossidanti e anti infiammatorie che possono essere benefiche per la pelle pertanto possono aiutarti nel trattamento e nella prevenzione dell'acne prevengono i problemi del cavo orale le foglie d'uva possono aiutare a prevenire problemi orali come afte e gingiviti stomatiti e sanguinamenti per ottenere questo beneficio fai dei gargarismi quotidiani con il tè ricavato dalle foglie prevengono l'anemia le foglie d'uva sono ricche di ferro un minerale noto per prevenire l'anemia ha un ruolo fondamentale nella formazione dell'emoglobina nei globuli rossi è inoltre un supporto alla vitamina c che favorisce l'assorbimento del ferro in modo da prevenire l'anemia aiutano la guarigione oltre ai composti antiossidanti e anti infiammatori le foglie d'uva contengono sostanze cicatrizzanti astringenti e antisettiche pertanto favoriscono il processo di guarigione delle ferite aiutando la pelle a rigenerarsi più facilmente e rapidamente altri usi e benefici trattamento della diarrea controllo del sanguinamento mestruale abbondante emorragia uterina perdite vaginali eccessive epatite infezione da lievito candidosi ti starai chiedendo come consumare le foglie d'uva per trarne tutti questi benefici puoi preparare un tè con le foglie di uva è semplice e facile da fare per preparare il tè avrai bisogno di una foglia d'uva e mezzo litro d'acqua metti l'acqua in una pentola o in un bollitore e porta la a ebollizione quando l'acqua raggiunge il punto di ebollizione aggiungi la foglia d'uva e copri la pentola lascia in infusione per circa cinque minuti trascorso questo tempo filtre bevi immediatamente se conoscevi già qualcuno di questi usi delle foglie d'uva faccelo sapere nei commenti